Il mio omeleto poi, quando era piccolo, insisteva perché gli regalassi un cavallo con tanti cavalli. Poi capire che cosa vuol dire, è tutta una cosa molto complicata. Poi crescendo diventano ancora più illogici. Cosa vogliono? È ovvio, devono andare a ballare, e quindi ci vuole la calzamalle firmata dolce giullare, se no non va bene, se non sei alla moda. E in più non ti ripagano neanche guardandoti in faccia mentre mangiamo. No, mandi messaggeri in giro alle ragazze del paese così per invitarle. In giro. Che cosa senza senso? Io non li capisco proprio. E in più sai come ti ripagano? In un modo molto brutto, facendosi venire le visioni. Le visioni, dico io. Hai capito? Le visioni. Cioè, tra tutte le cose che uno si può far venire le visioni. Però un figlio con le visioni è ancora ancora l'oggetto di questi tempi, insomma. L'oggetto. Però poi? La cosa va degenerando. Cominciano proprio a dare numeri. E lì, e lì, e lì è pura. Cioè, o conti i numeri anche tu, oppure gli regalmi dopo, come ho fatto io. E lui si applica. E io vedo ogni tanto che scrive, però... Non funziona tanto questa cosa, sai che amica? Sei l'unica che mi comprende. Anch'io vorrei andare in giro nuda. Per esprimere meglio me stessa. E invece... più proprio niente. Mi tocca davvero un figlio, sai che cosa fa adesso? Sai che cosa fa? Parla con gli tedeschi. Li raccogliono i cimiteri, poi ci parla. Lo tiene in mano, lo guarda, come sei bello, sei così scheletrico. Ma si può? Ma... Insomma, un figlio pazzo va bene. Ma metallano mai, eh. Insomma... Però... Non mi raccogliono i cimiteri. Papà, io mi sento. Leggerò, tesserò, farò un'altra cosa. Aspettando che il re giunga. Anzi, mi sembra di sentire dei passi. Certo che questi caspelli sono costanti. Sono qua, amore mio. Oh, ah, ciao. Oh, Gertrude. Dolce Gertrude. Sì. Te prego. Lasciaci. Va bene. Amneto sta per arrivare. E dobbiamo farla incontrare con Ophelia. Per scoprire qual è il suo mare. Va bene. Allora andrò a leggere Menestrella 2000. Così mi viene qualche idea per testere un po'. Vai, vai. A te. Ciao. Ciao. Non avrà mai il principi di Danmarca, caro Polonia? Che pesante fardello! Lo sento arrivare. Ritiriamoci, mio siero. Andiamo. Essere o non essere? Questo è il dilemma. Se sia più nobile soffrire nell'animo i colpi e le frecce della fortuna oltreggiosa o impugnare le armi contro un mare di guai e affrontandoli porre fine ad essi. Morire. Dormire. Dormire. Sognare. Forse. Sì. Sì. L'ostacolo è questo. Perché quali sogni possono sopraggiungere nel sonno della morte dopo che ci siamo sbarazzati degli affanni della vita mortale? È cosa che deve farci riflettere. È questa la considerazione che dà così lunga vita alla sventura. No! Non ci posso credere! Pronto? Che minchia muoia! Possibile che tutte le volte che recito mi devi rompere il ministro degli interni? No, cavolo, dai però! Ma cos'è sta roba bianca nel pacchetto di Pepe Mems? Sta a vedere che... No! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.